ok allora cari amici si adesso sta registrando vilma ciao a tutti questa bellissima ragazza che vedete si chiama vilma zannotti ed è un'esperta di astro genealogia materia che io amo molto perché a differenza diciamo di altre scuole di pensiero permette di rintracciare con assoluta certezza fatti situazioni dei propri ascendenti e quindi capire le equazioni a ripetere che si sviluppano all'interno dei nuclei familiari no che è un vissuto non carmico appunto ma reale non perché il karma non lo sia non voglio offendere chi lo fa però è verificabile nelle storie di famiglia persino nelle fotografie a volte penso no rintracci dei volti delle situazioni io avevo avuto il piacere di studiare l'astro ereditarietà con cielo discepolo quando ero giovane mi sono detta glielo stavo raccontando che uno dei motivi per cui ho sempre creduto all'astro genealogia è che se erediti il tema stale vuol dire che erediti anche un passato un carattere una tendenza no un un ambiente un humus familiare vilma ci vuoi raccontare bene cos'è l'astro genealogia lo facciamo comprendere a chi ci ascolta buonasera amata grazie di avermi invitata è un piacere di essere qui vorrei fare prima una premessa sul mio pensiero personale diciamo su l'astrologia e sull'universo diciamo sull'energia bene e allora l'universo secondo me è un'energia cosmica intelligente che è mirata a farci evolvere quindi poiché ha un suo percorso di evoluzione le stessa che deve vivere ed evolversi quindi si è manifestata con le origini col big bang diciamo così formando noi che siamo suoi figli diretti della stessa sostanza planetaria noi abbiamo la possibilità di manifestarci e di vivere attraverso le esperienze personali quindi per acquisire conoscenza e per poi riportarla l'energia dell'universo io ho iniziato questo percorso di astro genealogia otto anni fa perché in primis ne sono stata vittima e poi protagonista cioè prima mi consideravo vittima perché ero all'oscuro di tutto quello che poi ho scoperto in seguito ma ti spiego più nel dettaglio cosa significa vittima quando siamo all'inizio di un del nostro percorso di conoscenza eh cioè quando rileviamo che c'è qualcosa che non va nel nostro vissuto quotidiano quindi ci capitano degli eventi che non dipendono da noi ma eh dalle nostre scelte ma da fattori incontrollabili inizialmente perché sono le le energie delle trasmissioni trasgenerazionali che diventano sempre più forti e quindi ci svegliano e quindi ci svegliano e oppure in realtà ci svegliamo proprio perché sono forti quindi di conseguenza cominciamo a porci delle domande perché siamo qui perché si ripetono queste esperienze perché capita sempre a noi perché sento delle forze che mi trascinano laddove non vorrei andare tutta una serie di perché e quindi alla fine insomma cioè potremmo continuare all'infinito con le domande in questa fase io mi sono sentita vittima all'inizio vittima del fatto del destino dell'universo chiamiamolo come vogliamo ma successivamente però si entra poi nel vivo dell'esperienza quindi della conoscenza astro genealogica riusciamo a scoprire in realtà quelle energie quelle trasmissioni quegli eventi quelle esperienze che sono in realtà dei messaggi di aiuto che la nostra stirpe ci pone quindi ci chiede di aiutarla e quindi la quale riesce a portare a termine il nostro programma loro non sono riusciti nel loro tempo che hanno avuto a disposizione di conseguenza si collegano a un discendente per chiedergli proprio di proseguire quello che è il loro programma quindi a questo punto quando io ho capito questo sono diventata protagonista della mia stirpe e quindi è cominciato un percorso veramente affascinante e non ti sento amata non ti sento ok scusate eh problemi della diretta io trovo che eh protagonista della stirpe sia una definizione meravigliosa ti dà proprio l'idea sai del paladino no con la spada che taglia i nodi e rimette tutta una famiglia quindi un immenso nucleo di persone su una certa via eh è molto bello e poi ti dà proprio l'idea della presa di potere nella propria vita no del non soggiacere più agli schemi ripetitivi esatto ma è possibile davvero farlo cioè quanto può essere difficoltoso questo percorso non è difficoltoso il percorso è un percorso affascinante evolutivo ricco di scoperte ricerche enigmi cioè per me è stato divertente in realtà è vero che inizialmente è stato non inizialmente durante il percorso alla scoperta ecco dei segreti delle situazioni è stato doloroso devo dire la verità ha la sua parte di dolore questo questo c'è non non dobbiamo negarlo però in realtà è è affascinante ma anche il solo fatto di ricreare l'albero di ritrovare tutti i tuoi antenati persone che non sapevi neanche che esistevano cioè procugini io ho ritrovato anche procugini in america ancora viventi eh grazie alla ricerca dell'albero e quindi non è faticoso certo richiede un po' di impegno questo sì ma ognuno lo può fare con i propri tempi con la propria voglia nessuno gli rincorre dietro per dire no c'è una scadenza no hai tutta la vita per poter risolvere questo enigma quindi no non è faticoso ecco queste io penso anche una cosa no l'altro giorno ad un corso raccontavo ai miei allievi che eh comunque le persone hanno vissuto la scoperta dei tre pianeti transaturniani quando poi l'umanità era pronta in qualche modo no per ricevere determinati significati e io credo che questo valga anche nella vita dei singoli individui troviamo il parente la collocazione la dinastia la stirpe quando siamo poi effettivamente pronti per maneggiare tutti questi significati non pensi sì sì sono d'accordo sono d'accordo e infatti diciamo tutto questo percorso comunque alla fine ti permette di migliorare sia la propria stirpe ma anche la tua vita perché ti alleggerisci senti proprio le sensazioni dentro di te la tua vita dal giorno dal giorno dopo cambia perché quando si sciolgono questi redimenti sei più leggera rinasci sei più solare hai hai una nuova vita davanti a te ecco e ti direi una cosa durante le tante liberarci diciamo da questa parte che ci è stata data ovviamente abbiamo bisogno di emergere come noi stessi perché tu considera che già noi dal nostro tema natale abbiamo già il nostro percorso evolutivo che dobbiamo fare con le nostre prove tutto il resto quindi nasciamo col bagaglio personale più il bagaglio della famiglia per carità è un bellissimo dono perché ci permette ancora di più di evolverci ma comunque ad ognuno il suo ecco io alla fine concludo che ad ognuno il suo guarda c'è una cosa no che secondo me bisogna anche considerare tantissime persone si stanno rivolgendo all'astrogenologia alle costellazioni familiari per cercare di capire meglio se stessi sbloccare dei puntum dolens della propria esistenza questo tipo di dinamiche che non vogliono sostituirsi alla psicanalisi però diciamocelo se ci portiamo dietro un determinato tipo di blocchi di cui non siamo nemmeno consapevoli e magari non sappiamo neanche le storie di famiglia le dobbiamo andare a cercare no scavando alla fine come tante persone mi hanno detto poi durante i miei consulti la psicanalisi si ferma a te ai tuoi ricordi la tua infanzia il tuo vissuto quello che sai cioè cerca di aiutarti a vivere partendo da cosa tu ricordi conosci e padroneggi e se in realtà il mio problema venisse da più lontano ecco senza necessariamente scavare appunto nel karma che è un discorso lì e poi anche religioso quindi subentrano altri fattori ma proprio nell'esperienza della nostra famiglia no come ti raccontavo io mi sono trovata ad un certo punto che ho visto che mia madre e mia nonna hanno tutte rimaste virtualmente sole con un figlio unico e io ero avviata allo stesso preciso destino ho detto no grazie e ho invertito completamente la tendenza però ci sono arrivata perché appunto già venivo da questi studi da questo mondo quindi mi sono resa conto che c'era qualche cosa che si stava ripetendo al di là della mia volontà ecco come se la vita mi stesse necessariamente portando nella stessa direzione ecco in questo io dico spesso durante i miei interviste che la psicanalisi ha dimostrato di non essere la chiave della felicità e di non risolvere i problemi di tutti sicuramente è imprescindibile se hai delle patologie chiamiamole così psicologiche o psichiatri che è ancora peggio ma per le persone che sono ancora come diceva Freud in grado di amare e lavorare ma che per questo non non di meno sono infelici o bloccate o non riescono a avere una vita rotonda no piena io credo che una ricerca di questo genere possa essere determinante poi immagino che avrai avuto anche tu tante esperienze tuoi consulti le persone che avrai eh esaminato insomma avrai visto dei risultati di gente che è cambiata tipo apre chiave chiudi chiave no? Sì esatto sì i risultati ci sono ehm come ho detto prima non c'è un tempo perché non c'è una scadenza dipende dalla persona come comincia a lavorare su su se stessa sul proprio albero poi dipende anche da l'antenato se vuole essere scoperto non scoperto cioè poi si creano tante dinamiche all'interno del lavoro che si fa però di sicuro ti danno le informazioni sempre a livello nel momento in cui tu sei pronta ecco ecco e alla fine se uno ci pensa adesso diciamo spieghiamo un po' che cos'è l'astrogenialogia che è una collaborazione praticamente sinergica tra l'astrologia la psicogeneologia e l'albero genealogico che sono tre fattori che lavorano assieme e in questo modo grazie a loro ci permettono di accedere a delle informazioni che eh la nostra famiglia teneva nascoste quindi di conseguenza si trasportavano di generazione in generazione fino a bloccare poi la vita dell'irretito perché poverino l'irretito viene coinvolto a dover svolgere degli obblighi e dei doveri inconsci quindi nella nostra vita si presentano delle situazioni diciamo che si ripetono no che può essere ecco per esempio una relazione sentimentale guarda caso mi fidanzo sempre con gli scorpioni o con il capricorno ecco sarebbe interessante che le persone cominciassero ad analizzare il loro vissuto in questo presente per poi trovare anche dei collegamenti nella loro ricerca dell'albero e quindi a chi è rivolta l'astrogenologia in realtà è rivolta a tutti nessuno escluso secondo me perché non esistono alberi genealogici puliti quindi rivolta a quelle persone che hanno difficoltà per esempio a trovare un lavoro che non riescono a guadagnare abbastanza per pagarsi gli studi a persone che svolgono un lavoro che non gli piace ma che sono costretti a svolgerlo a persone che vivono costantemente di fallimenti ecco quelle sono casi di ripetizione persone che hanno sensazione di non appartenere alla propria famiglia quindi si vivono un risentito di esclusione perché magari se vai a indagare nella loro stirpe ci sono stati tanti bambini nati abbandonati persone che non riescono a trovare un partner che scelgono sempre quello sbagliato perché magari stavi rivivendo una relazione ripetuta dei loro avi conflittuale anche persone che vivono per esempio il sesso in modo conflittuale che presentano malattie inspiegabili laddove tu fai degli accertamenti non risulta niente ma comunque tu stai male ecco persone soprattutto io ho trovato molti casi nelle varie analisi che ho svolto casi di sonnambulismo cismo questo non l'avevi pensato cioè non mi sarebbe venuto in mente eh sì e questo è proprio uno diciamo dei casi più forti in realtà casi in cui le persone si sentono vittime comunque di una forza che le rallenta quindi hanno già una certa eh sensibilità oppure hanno la la sensazione di vivere la vita di un altro eh altra volta a tempo fa mi ha chiamato uno ha detto io non sto vivendo la mia vita ok cerchiamo di capire qual è il problema è certo no sicuramente molto interessante tutto questo anche i bambini interattivi i bambini che mostrano un'iperattività per esempio sono bambini che hanno subito diciamo nella loro stirpe una sorta di incesti quindi quando si va a poi a scoprire l'albero nell'albero c'è veramente di tutto eh escono delle cose che oggi per noi possono essere a volte inaccettabili a volte impensabili ma comunque presenti sì sono accadute ma bisogna anche accettarli così come sono perché i tempi di oggi non sono i tempi di allora se una cosa oggi per noi viene vista come per dire un omicidio no il mio disavolo ha commesso un omicidio bisogna capire in quel contesto in quel tempo in che situazione si è trovato questo bisnon questo crisavolo per commettere questo omicidio quindi ci vuole sempre la comprensione alla base per riuscire a pulire un albero comunque nella genealogia nella sua genealogia cioè è rivolta a tutti ecco a me non mi viene da dire chi si chi no perché i casi sono veramente ehm vasti quindi normalmente per esempio ce ne accorgiamo con alcune persone che parlano con un tono basso o quelle che si vestono sempre di nero o le persone che dormono con le mani congiunte ok questo è un fantasma che c'è un programma di trasmissione di un fantasma di un antenato come nel caso del sonnabolismo no perché il soggetto si alza di notte e gira per casa fa quello che vuole al di fuori della tua padronanza di te stesso ma è molto interessante però perdonami c'è una cosa che vorrei capire meglio no eh allora molte informazioni sicuramente sono già state tramandate no tantissime altre no spesso ci sono situazioni informazioni eh che voglio dire morti tutti coloro che l'hanno vissuta ecco come facciamo a ritrovarla eh senza magari le date di nascita di queste persone perché insomma le ricerche non sono sempre fruttuose in questo senso cioè credo che ci siano degli ostacoli come come li posso dirti per esperienza che le informazioni arrivano arrivano è vero che tu dici ok non c'è il depunto come faccio a prendere informazioni magari mia mamma e i miei genitori come nel mio caso no io ho cominciato quando loro erano morti come faccio a prendere informazioni ok però intanto cominci a creare l'albero partendo come ho fatto io dal cimitero con le tombe prendi le date ok intanto poi attraverso l'analisi astro genealogica viene fuori eh io ti do delle date di riferimento su cui tu puoi trovare i tuoi defunti collegati in quella in quel range di tempo di quelle date ok e così da lì possiamo ricavare se è un diciamo una sindrome di ripetizione di riparazione o di linea maestra che intanto possiamo capire che tipo di rettimento è poi dall'analisi viene già fuori con la decodificazione dei segni e quindi con come dire la nel tema natale abbiamo i personaggi nel tema natale poi è divertente proprio per questo no perché abbiamo i pianeti i segni zodiacali ok i pianeti e le case quindi noi andiamo a lavorare su questo cioè cosa significa significa che i pianeti sono i protagonisti quindi trovo lo zio il nonno il bisogno esatto sì poi ci sono le case che sono diciamo i fatti che sono accaduti e i segni che ti indicano qual è la problematica chiaro attraverso poi la combinazione quindi la decodificazione del segno con l'ascendente e ti viene fuori un risultato attraverso poi sempre il segno con i forti valori molto spesso troviamo in alcuni casi della maggior parte dei casi per le persone che si sono rivolte almeno alle analisi troviamo degli stellium ecco laddove c'è un insieme di pianeti in un segno in una determinata casa quello ci sta ad indicare anche un forte reggimento e poi è da capire se il bisnonno se il tesagolo però per dirti a parte l'analisi che ti dà una sorta di saga di racconto della tua famiglia di fatti accaduti a te prettamente sconosciuti ma forse sconosciuti anche a tua mamma a tua nonna sì perché poi vabbè anche se io devo dire la verità dico sempre che la gente mente tantissimo quindi alla fine magari tu vai dalla nonna dire sai nonna ma per caso c'è stato uno stupro nella nostra famiglia la nonna dice no ma che dici ma così perché c'è ancora quel senso di vergogna ecco questo questo è fondamentale che va comunque eliminato perché va in va preso diciamo con il cap comprensione amore perdono non ci deve essere nessun giudizio quando si comincia a fare un albero e quando si leggono le storie della saga dell'analisi astro genealogica perché se c'è una chiusura della persona allora non si riesce poi a percepire ad ogni modo posso dire che nel momento in cui si crea questa analisi quindi viene fuori questa saga la persona già comincia a leggere è come se si muovessero delle energie ecco planetaria io direi familiari che loro sono contenti in realtà che ti mettono sulla strada le persone giuste per farti arrivare le informazioni c'è molto spesso le informazioni possono arrivare anche da amici di amici di famiglia possono arrivare anche dal passante di turno che magari ti sta dicendo una frase che su quel momento in quel momento tu dici ma che cosa voleva dire poi in realtà quella frase entra a livello inconscio perché l'irretimento è un risentito c'è una memoria una trasmissione di memoria che è registrata a livello inconscio nostro quindi anche se io non non la vedo ma c'è e la percepisco se sono sveglia la percepisco se non sono sveglia non la percepisco però c'è è tutto quello che accade a noi quando ci circonda nella nostra vita quotidiana comunque agisce sul nostro inconscio ecco io non mi preoccuperei sul fatto di dire non trovo le informazioni no perché le informazioni a parte l'analisi a parte la creazione dell'albero a parte i parenti arrivano sempre ma è meravigliosa questa cosa come un flusso energetico che ci viene inviato affinché facciamo luce esatto nel momento in cui la persona comincia a costruire il proprio albero si muovono tutte le energie ed entrano in sintonia tra di loro e da sperimentare che io lo dico sempre da sperimentare magari uno non ci crede perché non l'ha provato dico sempre provare per credere quindi le informazioni ci sono arrivano e a quel punto lì comunque già dal tema natale dalle varie combinazioni planetarie noi riusciamo a capire se ecco un abuso una violenza un omicidio che poi la famiglia lo negli o non se lo ricorda o non abbiamo la possibilità di avere che conferma ok non fa niente perché nel momento in cui tu hai sai questa cosa procedi con un percorso di purificazione che può essere un rito simbolico per esempio un defunto che non ha ricevuto la sepoltura ok facciamo un rito di sepoltura simbolico ok ci affidiamo anche alle costellazioni familiari che aiutano tantissimo il problema si risolve quindi si vede non ci sono problemi sotto questo aspetto io non ho mai visto un albero che si sia come dire sospeso bloccato a meno che non sia la persona che dice ok mi fa troppo male sapere non voglio andare avanti mi parcheggio però teniamo in mente una cosa che il presente è legato al passato di conseguenza se noi non risolviamo il passato non potremo avere un presente sereno e tranquillo pulito molto molto interessante guarda ci hai regalato una conoscenza oggi veramente impressionante poi l'albero intelligente si purifica anche da solo in realtà attraverso le professioni per esempio no gli avvocati che fanno gli avvocati perché nella loro stirpia hanno subito delle ingiustizie i poliziotti perché cercano delle autorità e quindi delle figure paterne gli insegnanti gli educatori perché c'è bisogno di educare il clan cioè anche la professione che noi scegliamo di svolgere alla fine pensiamo di averla scelta noi però in realtà è un certo senso siamo un po' spinti a prendere quella strada io credo che l'universo sia veramente così meraviglioso che è come dire vada solo c'è è vero che noi possiamo accelerare il procedimento ecco io ritengo che astrogenealogia sia molto utile in questo perché riesco così ad accorciare i tempi e a prendere padronanza della mia vita e quindi a poter vivere in questa dimensione in questo tempo anche quello che il mio percorso personale poi penso che ci saranno casi di persone che magari hanno bisogno di ripetere all'infinito e quindi conducono la loro vita su questa terra ripetendo sempre la stessa dinamica magari perché c'è creato un irredimento talmente forte che si crea quella alleanza invisibile col clan che tu non puoi uscirne non più che non puoi non vuoi in realtà uscirne perché diciamo che il clan ti dà quella quel senso di coesione di alleanza di solidarietà di unione ok e di appartenenza nel momento in cui nasce un discendente che magari è un outsider cioè che magari è una pecora nera che magari è uno fuori dalle righe serve proprio per spezzare quello che è una catena tutto il pacchetto della stirpe quindi senza volercene alla stirpe per carità io l'adoro moltissimo oggi che ho scoperto la mia quindi l'adoro moltissimo nonostante ci siano effettivamente delle emozioni che ti creano delle problematiche però ritengo sempre che ad ognuno il suo cioè questo non smetterò mai di ripeterlo ad ognuno il suo capisci la lezione risolvi l'enigma perdona la stirpe per quello che ha commesso perché le cose che si scoprono sono veramente tante e brutte devo dire che c'è anche l'aspetto bello eh perché ci sono anche gli eredimenti piacevoli che sono i talenti gli obbi le passioni che sono ci sono anche l'empatia ci sono anche gli eredimenti piacevoli però posizioni artistiche i trasporti mistici il sacrificio il valore il coraggio cioè immagino che scavando si scopre anche il lato bello del cielo si trasmettano tutto due perché devi sapere che non puoi fare un lavoro se non hai gli strumenti di conseguenza se io sono una prescerta della stirpe come mi considero un pesce pulitore no posso fare questo lavoro rispetto a mio fratello a mia sorella ecco che non hanno vissuto la stessa situazione pur vivendo nella stessa famiglia ok lo posso fare perché a loro volta mi hanno comunque trasmesso gli strumenti adatti per poter svolgere questo ruolo l'empatia la comprensione la capacità del perdono la capacità di indagare di voler ecco porsi delle domande di voler risolvere la questione quindi come dire si è perfetti così sai amica mia io dico sempre a lezione che noi esseri umani sbagliamo ma l'universo non sbaglia mai sì quindi se quella cosa ti sta accadendo se la stai vivendo sentendo è perché è giusto che sia così evidentemente il tuo ruolo nella storia dell'universo era quello di arrivare a quella consapevolezza magari spezzare quella catena o non spezzarla ma comunque dici dovevi confrontare e fare del tuo meglio anche aprire pista perché no a qualcuno dopo perché insomma immagino che non tutti siano in grado sempre comunque di fare delle cose magari in quel momento in cui le realizza o in cui le scopre magari c'è un rinvio può succedere non sono una grande esperta in questo senso ma immagino che questi percorsi non siano appunto ta ta apri porta chiudi porta no no ma man mano che riesci a scoprire qualcosa ovviamente subentra il conflitto in sé se hai delle problematiche di relazioni emotive affettive comunque quando scopri anche dire il segreto di reddimento quello che è comunque emotivamente tu stai male certo e quindi hai bisogno di un arco di tempo per smaltire quella che è l'emozione la situazione l'accettazione e il perdono poi anche rispetto a delle cose soprattutto se ce le ricordiamo magari no? Cioè se abbiamo visto nostra nonna con la lacrima ripensando a un evento o situazioni di questo genere è facile che poi l'impatto emotivo possa essere forte credo. Certo. Certo. Molto interessante. Gente ti faccio una domanda invece un po' più così diciamo di curiosità mia ma perché c'è poche menti astrologiche che si dedicano a questo campo perché in definitiva non siete tantissimi a fare seriamente l'astrogenologia tu ti sei data una spiegazione di questo? Beh io penso che le persone si avvicinano all'astrogenologia perché in primis sono vittime ok quindi di conseguenza applicandolo su se stessi risolvendo dei problemi ci si appassiona alla materia è chiaro. Penso che sia una materia veramente sotto alcuni aspetti un po' complessa diciamo da studiare da intensificare diciamo da intrecciare però io credo che sia solo una questione di tempo beh io me lo auguro perché penso che l'astrogenologia prenderà piede in Italia come ha preso grande piede in Europa e nelle scuole extraeuropeie quindi ovviamente parte sempre tutto da lì e noi italiani siamo un po' come dire un po' indietro poi comunque consideriamo che qui adesso va beh apro una parentesi chiudo una parentesi non so se posso dirla ma abbiamo la chiesa e quindi di conseguenza è come l'astrologia non ci va tanto a nozze anche se in realtà la conosce benissimo però io sono convinta di una cosa che i tempi stanno rapidamente cambiando perché tante persone trovano nell'astrologia una risposta e l'astrologia quantistica ha dimostrato che l'assunto astrologico di un'interazione dell'universo è un dato reale e scientificamente dimostrabile quindi sicuramente secondo me è venuto il momento che torniamo a dialogare con le grandi altre forme di cultura l'antropologia la teologia la filosofia anche perché le persone soprattutto i giovani rispetto al dogma della chiesa sono sempre più lontani quindi da un lato a me personalmente che sono persona di fede può anche dispiacere ma io non metto piede in una chiesa dalla comunione di mia figlia guarda amata io credo che la fede non c'entra niente con la chiesa assolutamente anch'io assolutamente niente io ho fede io sono una persona di fede cioè ma con la chiesa sinceramente si può dialogare il dogma mi spaventa in quanto dogma proprio no il dogma religioso il dogma mi spaventa perché è un'imposizione culturale che limita la mente e la coscienza delle persone io però ho fede mi piacerebbe tanto una chiesa tutte le chiese libere dal dogma dalle costruzioni dai riti e che sia veramente una ricerca spirituale per parlare con l'universo mi piacerebbe tanto detto questo io credo che ci sia un grandissimo risveglio e credo che anche come quella che operi tu sia quella che forse poi può dare più aiuto alle persone nel loro cammino e questo penso che sia un grandissimo risultato perché poi alla fine l'astrologia nasce per far conoscere le persone se stessi e noi siamo quello che mangiamo per dirla con chi è che credo ma anche quello che abbiamo visto in famiglia siamo quello che abbiamo ascoltato che abbiamo visto anche fin da bambini siamo quello che leggiamo e che lavoriamo tutti i giorni nella nostra vita no il quotidiano che ci forma ci ci informa quindi eh tramite lo zodiaco noi possiamo accedere a tante realtà tantissime e sono tanti piani no uno sopra l'altro che si nutrono a vicenda l'uno dell'altro adesso noi non siamo ancora chissà cosa in grado di evoluzione ma sono certa che stiamo gettando delle basi per un lavoro di veramente gran consapevolezza dell'umanità che forse non vedremo né noi né i nostri nipoti ma noi saremo gli antesignani di questo percorso io di questo ne sono profondamente convinta anch'io ne sono convinta sì i pionieri servono a questo e quindi sì si estenderà con molta rapidità anche perché devo dire che da otto anni a questa parte da quando l'ho conosciuta io e ce ne erano ecco veramente pochi oggi siamo ancora pochi ma comunque di più di otto anni fa guarda cara sai io ti dico anche una cosa la percentuale di persone che vuole avvicinarsi a questo mondo sta crescendo a vista d'occhio io il primo corso che tenni lo tenevo la domenica mattina su Skype a sette persone io quest'anno ho avuto l'onore di avere centonovantaquattro persone iscritte al mio corso annuale divise ovviamente in quattro classi e vuol dire che c'è una crescita ma veramente a vista d'occhio no come la zucchina nel prato eh di persone che sono stanche delle solite risposte del mainstream culturale eh di tutto ciò che si cerca di propinare alle persone tra i mass media cioè la gente non è stupida la gente comincia ad interrogarsi eh a chiedere cosa posso fare per essere felice e spesso all'essere umano per sua natura viene più facile voltarsi indietro dove magari ci troviamo eh la grande passione per gli altri che non a guardare avanti verso quella che per ora si prospetta ancora uno scientismo abbastanza dominante tanto prima o poi eh dopo che hai guardato indietro hai scoperto cosa hai perso di valore vorrai guardare avanti per una vita migliore questo non c'è dubbio bene eh io avrò il piacere se vorrai di averti in aula con noi molto presto perché sono certa che soprattutto che avrà ascoltato questa intervista sarà desideroso di farti un sacco di domande eh come ti dicevo eh ho la grande fortuna di conoscere di di persona tantissimi allievi che bevono eh tutti questi concetti ma veramente come fosse l'acqua della fonte della sapienza quindi eh mi piace dare a loro delle risposte mi piace incontrare persone come te che possono dare tanto quindi ti do veramente il benvenuto nel nostro piccolo mondo mi sono onorata grazie ma grazie a te davvero è stato emozionante io ti ringrazio ti do appuntamento a brevissimo per le nostre cose voi potete ovviamente trovare Vilma Zannotti sui social penso eh seguitela cercatela fate le domande stalkeratela senza pietà eh perché è giovane eh brillante è piena di cose da dare se vi state interrogando sulla vostra vita forse lei potrebbe avere la chiave di accesso giusta quindi ve lo ve lo consiglio noi ci vediamo presto Vilma ti do un bacione grazie di essere stata con noi grazie a tutti che ci hanno seguito ciao a tutti buonasera buonasera a tutti ciao ciao ciao